salve a tutti con questa video guida piccola video guida intendo spiegare come creare il kit portabile su una usb con questa con questa raccolta che ho prodotto per il disturbo specifico dell'apprendimento il kit portabile è interessante perché permette di creare una chiavetta usb con i software essenziali alla compensazione del disturbo una volta creata la chiavetta si avrà portabile audacity cmap per le mappe cam studio per creare video lezioni come quella che sto creando in questo momento leggi per me con sei sintesi vocali portabile fast on capture per creare catturare qualsiasi immagine da qualsiasi fonte basta che sia presente sul desktop georgebra per vedere la matematica e ovviamente libreoffice che ci permette tantissime attività di scrittura e presentazione con un produttore di parola con il correttore ortografico e con i fonte che ci interessano appunto ad alta leggibilità però vediamo come creare questa questa chiavetta poi vedremo come lanciare i programmi proprio dalla chiavetta allora una volta scaricato il kit dal da internet si avranno queste cartelle ecco si avranno tutte queste cartelle e la cartella crea la tua usb andrà andrà copiata copiata e incollata dentro una chiavetta ecco per fare questo ovviamente ci vuole una chiavetta che sia almeno di un giga ma forse anche meglio un paio io l'ho già fatto per risparmiare tempo la chiavetta è questa disco rimovibile ecco in questa chiavetta scoppiaremo che copiaremo creare la tua usb una volta copiato il contenuto in questa chiavetta avremo appunto tutti questi programmi portabili non ci sono i lanciatori per evitare errori di indirizzo con il programma che che si vuole essere si vuole lanciare e anche la guida per utilizzare la chiavetta che è quella che sto costruendo consiglio di guardare la vita guida così si evitano pasticci praticamente la nostra chiavetta ogni cartella è un programma se voglio registrare faccio doppio clic su audacity e dentro la cartella audacity c'è tutto quello che serve a far partire il programma quindi cliccando doppio clic su audacity.exe che è l'icona che si vede basta cliccare ecco che parte audacity ovviamente il tempo di lettura sulla chiavetta dipende dal tipo di chiavetta se una usb 3 è molto più veloce che una usb 2 come in questo caso che è un computer un po adattato e il programma partirà con tutte le sue funzioni questo programma portabili appunto audacity è pari a quello installato e addirittura riesce a convertire in mp3 quello che si registra a voce ecco partito audacity se c'è un antivirus andrà a cercare se ci sono problemi ed ho un sistema per registrare la voce commentare mappe testi o quello che voglio basta cliccare rosso e parte audacity ma non è la guida che mi interessa allora come dicevo prima tutti i programmi presenti nella chiavetta sono portabili cioè hanno il loro lanciatore cam studio eccolo qui ai suoi lanciatori il recorder eccolo qui è il programma che sto utilizzando per fare questo piccolo clip cliccando recorder.exe parte il programma e così nella stessa maniera tutti gli altri programmi della della chiavetta come dicevo un discorso particolare va fatto per leggi per me perché leggi per me questa versione ha al suo interno sei sintesi vocali cliccando esegui il computer chiederà l'installazione per tutti i sistemi windows c'è bisogno di qualche minuto perché cliccando esegui installerà le voci purtroppo io l'ho già installato quindi è inutile che clicco non si vede però si trova a dare l'ok e lui installerà le voci sul computer che ospita la chiavetta e quel computer poi dopo utilizzerà leggi per me è bello come il sole vale a dire che una volta installato io potrò far partire leggi per me adesso guardavo se qua ce l'ho ma non ce l'ho ho preparato di nuovo la macchina per mostrare le funzioni di leggi per me portabile basta un doppio clic su esegui.exe e la macchina installerà come dicevo prima le funzioni di voce e tutto quello che serve ovviamente il computer cercherà di capire se quello che si fa è un rischio o meno quando si accorgerà che è un falso positivo darà l'ok e si può ripartire con l'installazione ecco le domande diritto io non intendo scaricare l'aggiornamento perché questa è una versione abbastanza stabile e il programma adesso mi chiederà di installare tutte le voci dovrò dire sì 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 e dopo tutti i sì avrò le voci installate nel computer si fa una volta sola perché il programma abbia le voci ecco invece le voci c'erano e ha fatto partire solo il lanciatore no no adesso installa anche le voci questo è il lanciatore multipla con lettore pdf le mappe e chrome cliccando lancia adesso devo aspettare un po perché questa macchina un'altra volta ecco superati i fastidiosi blocchi dell'antivirus che preoccupato di queste installazioni un po truffaldine e truffaldine perché non si installano veramente un programma ma solo alcune competenze per farlo funzionare e passa superato il passaggio delle voci avremo appunto leggi per me con tutte le sue voci possibili immaginabili che sono queste quindi leggi per me funzionerà bello come il sole una volta che sarà messa la chiavetta in questo in questo in questo computer non ci sarà più da installare la chiavetta perché la chiavetta sarà appunto portabile cosa dire ancora la chiavetta tutti i software che sono in questa chiavetta sono portabili quindi non c'è bisogno di avere diritti di amministrazione per poterli utilizzare solo l'attesa dell'antivirus che si che vi domanderà se attendibili o no la partenza di questo software ma la chiavetta potrà essere come dicevo io come dicevo prima portata la dove serve anche da una casa all'altra con tutti i suoi software spero di essere stato chiaro su come si crea questa chiavetta anche se ci sono state delle interruzioni dovute all'antivirus ma questo nei sistemi windows è anche una garanzia che conviene non disabilitare per per avere la sicurezza che le cose funzioni nel frattempo da siti è ripartito un'altra volta perché windows è un po capriccioso per le guide del kit pc di sa francesco fusillo vi ringrazio per l'attenzione all'antività all'antività